Per una volta, anzi due, visto che è la seconda edizione, a Scuola di Natura ci vanno i professori. Dal 4 al 10 settembre torna infatti la settimana dell'educazione ambientale organizzata in Abruzzo dal WWF. È un corso di formazione itinerante con tappe nei vari centri di educazione ambientale e nelle osi gestiti dal WWF sul territorio regionale. I corsi del WWF Abruzzo, che è accreditato dal Ministero dell'Istruzione come ente formatore, verranno anche caricati sulla piattaforma SOFIA, lo strumento del MIUR che permette ai docenti di ogni ordine e grado di consultare tutti i progetti formativi. Si tratta di attività anche pratiche da fare in oasi o nei centri di educazione ambientale, dove spesso ospitate nelle osi. Qui i temi sono tanti, ogni anno sono diversi quelli trattati, come i cambiamenti climatici, l'erosione del suolo, la questione delle testugini esotiche, come verrà trattato nell'oasi di Serranella. Quindi temi praticamente attuali, che poi si ricollegono anche fra di loro. Quindi con questa attività gli insegnanti possono essere stimolati con attività pratiche e riportare agli alunni la loro esperienza. L'importante di questa attività è che gli insegnanti avranno la possibilità di avere un attestato di frequenza con riportate le ore. Il WWF è accreditato presso il MUR come ente di formazione, per cui ha un valore educativo abbastanza importante e per questo anche l'attestato acquista particolare valore. Quello che abbiamo sopportato quest'anno è stato veramente forte, come caldo eccessivo, come gli incendi, come si è detto. Allora che cosa dobbiamo fare? Immediatamente dobbiamo essere attivi, cittadinanza attiva e fare in modo che i nostri enti, i nostri stati, nelle riunioni del G7 o quando svolgono attività per decidere, prendere decisioni su come contrastare i cambiamenti climatici, siano veramente attivi anche loro e si raggiunga una possibilità di contrastare i cambiamenti climatici con la riduzione delle emissioni.